Grazie di essere venuti. Truffa le assicurazioni per falsi incidenti stradali, disarticolato un'organizzazione criminale. Dalle prime luci dell'alba, carabinieri e guardia di finanza hanno eseguito diverse misure cautelari personali nei confronti dei principali indagati di quello che viene definito un sodalizio criminale dedito alla commissione di truffe. Centinaia i falsi sinistri stradali accertati ed oltre un milione e mezzo di euro l'ammontare degli illeciti rimborsi. Come conferma ai nostri microfoni il procuratore Paolo Mancuso. L'aiuto forte è stato fornito dagli uffici legali delle principali compagnie assicurative che ci hanno fornito dei dati e delle collaborazioni anche dei cittadini. Quindi veramente si è trattato di un'opera complessa che il procuratore aggiunto, il collega Tronconi, ha coordinato in maniera intelligente per cercare di raggiungere questi risultati con le risorse disponibili che, ripeto, sono state sempre abbastanza limitate. Sicuramente avremmo potuto fare di più, ma questi sono già risultati, mi sembra, molto importanti e sui quali si è scoperta questo grave fenomeno di collusione di strati importanti dei professionisti che in qualche maniera sono protagonisti di questo tipo di distribuzione criminale di risorse pubbliche. Tra i destinatari dei provvedimenti, numerosi medici e avvocati nei confronti dei quali l'autorità giudiziaria ha disposto l'interdizione dall'esercizio della professione, oltre al sequestro dei beni, tra cui ville, studi medici, auto di lusso e conti correnti utilizzati per gestire le attività illecite. Noi speriamo che la fiducia delle istituzioni sia una cosa che non si è mai persa e sia solo una conferma. Parte da un cittadino che viene minacciato per la restituzione di un debito che aveva contratto. Parte da questa denuncia e si sviluppa poi con accertamenti di tipo economico su tutti i conti correnti che hanno intestato questa persona personalmente, intestati a se stesso o ad altri prestanome, su una serie tutta ramificata di intrecci a livello bancario, su cui vengono fatti degli accertamenti che poi ci portano a ricostruire tutta questa rete, poi sfociata in quattro organizzazioni sostanzialmente, a volte associazioni criminali, che avevano inventato questo sistema di truffa ai danni dell'assicurazione.